Sinceramente a questo spot non lo volevo fare, ma con l'infostata puoi avere ADSL senza limite. Telefonata a zero con meno di 10 euro al mese fino all'estate. L'ho detto alle mie portiere, mi ha detto, ah non ci crede se non lo dice la televisione. Io lo sto dicendo in televisione. Non ci crede? E io le cambio canale. Oddio, che è? No, scusi, non volevo. E ci ha avuto paura? Dai, su. ADSL, telefonate e se vuoi hai la internet di gratis per navigare fuori casa. Preferiva forse un cartone animato? Chiamai il 159. Grazie.